ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora oggi andremo a smontare e scoprire come funziona nel concreto questo ragazzi un hoverboard l'overboard fa parte della micro mobilità elettrica è formato da due ruote motrici una e due un controllo elettronico interno che funziona da bilanciatore cioè in base a come vai a piegare durante la marcia questo snodo lui sceglierà diciamo di portarti a destra o a sinistra per smontarlo cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a svitare tutte le viti grazie a tutti grazie a tutti montato l'overboard come vedi è formato da due parti parte 1 parte 2 e allora questi qui nel concreto cosa sono questo che vedi qui e qui sono le due schede che tengono dentro sia la parte di potenza cioè la parte che pilota il motore che la parte di bilanciamento cioè questa scheda dentro dei sensori che in base all'inclinazione del piano fa andare avanti o indietro o più veloce o più lento il motore perciò ogni motore come vedi ha la sua scheda in più qui c'è la batteria questo ovviamente cinese come tutti i prodotti micromobilità e allora abbiamo 25.2 volt capacità 4,3 ampere ora 108 watt ora ovviamente sarà con celle 18650 il connettore di alimentazione è questo eccolo qui che esce dalla batteria e va alla scheda motore poi da qui si sdoppia e va a finire qui tramite questo passaggio 1 e 2 e qui va ad alimentare l'altra scheda motori che ha il sensore ovviamente e le pedane dove vado appoggiare i piedi hanno dei degli interruttori questi interruttori cosa fanno dicono all'elettronica che il piede 1 e il piede 2 sono posizionati sopra perché sono diciamo degli interruttori che quando sentono il tuo peso chiudono il circuito e l'elettronica sa che sei sopra perciò può azionarsi poi su questa parte c'è l'interruttore on off più il connettore per la ricarica che è un 4 pin ma nel concreto come vedi sono soltanto due fili positivo e negativo questo è per la ricarica della batteria da questo lato invece c'è il led che va a fare diciamo come spia del funzionamento ecco ragazzi questo qui è il sensore eccolo qui questo in poche parole non è un interruttore vero e proprio in poche parole questa che vedi è una barriera infrarossi è una U che fa da barriera da un lato c'è l'emettitore dall'altro lato c'è un ricevitore quando quel pezzo di plastica viene inserito dentro dal tuo peso fa da barriera cioè interrompe il fascio di luce interrompendo il fascio di luce l'elettronica sa sia di qua che dell'altro lato sa che tu sei a bordo il prodotto è un prodotto di buona qualità si può vedere anche dai cablaggi dalle connessioni dalle saldature dalle schede elettroniche sono anche fatte bene i cavi del motore sono questi qua sono questi tre sono quelli di potenza e poi ci sono questi qui che sono uno due tre quattro cinque sono quelli di logica di cinque entrano qui e vanno connessi direttamente sulla scheda e invece i tre più grandi che sono blu giallo e verde poi vengono saldati direttamente sulla scheda eccolo qui verde giallo e blu e niente ragazzi spero che il video vi sia stato d'aiuto utile il prossimo video vediamo di farlo con un bel monopattino lo smonteremo e andiamo a vedere appunto come funziona come come vengono costruiti per questo video è tutto iscrivete al canale mi raccomando ciao e al prossimo video grazie